Chi siamo noi? I Wildcats! Chi ridurremo in polpette? I Wildcats! Ehi, Claudio, sei il coach maggiore che la squadra abbia mai avuto! È l'unico coach che la squadra abbia mai avuto, e la stagione non è ancora cominciata. Sì, ma lui porta il berretto come un idiota, capisci? Sai, over, è molto facile a criticare, non è vero? Eh, anche il divertente. Allora, Wildcats, siete pronti a dare il massimo massimino, a dipendere il risultato coi denti e a concentrarmi sulla vittoria? Sì! Sì, vittoria! Molto bene, adesso fate le facce da partita. Dammi il ballone, neanche i soldi della meretta. Quanto mi piace questo gioco. Bravo!